Universia di Taipei 2017, atletica, Siragusa Argento nei 100 L'atletica italiana, reduce da una negativa campagna londinese, trova riscatto a Taipei, sede delle universiali. Nel secondo giorno di gare, infatti, arriva una medaglia pesante. Irene Siragusa stabilisce il nuovo limite personale nei 100, 1131, e chiude seconda alle spalle della giamaicana Forbes, 1118. Cora Joseph e finisce il podio, mentre sesta è la seconda azzurra, Anna Bongiorni, 1150. Pave Fahidek, il campione del mondo, il personaggio nel lancio del martello, domina ovviamente la prova e si aggiudica la contesa con 79.16. Misura di riferimento stabilita al quarto turno, poi due tentativi per ampliare il gap senza successo. Bariscia è secondo, ottimo 77.98. Anche qui spicchio d'Italia, sesto falloni, 73.24. Nel disco, quinta la strumillo, 56.16 al terzo lancio, sigillo della Pudenz, 5909. La teutonica regola l'americana Allman. Cento al femminile e cento al maschile. Non ci sono personaggi di spicco, Shonan Yang fa esplodere così il pubblico di casa, volando in 1022. Il sudafricano roto ebbe fatto per due centesimi, bronzo a Burrell, quinto volco. Nei 10.000, invece, titolo ugandese. Bahati copre la distanza in 290.868, pb, regolando Soare Jojiri. La Rotaru, 6.65, stacca nettamente la cipriota Panayi, 6.42, e la Bueller, 6.38.